le isole pp sono un piccolo arcipelago nel mar delle adamane appartenente alla provincia thailandese di krabi nel sud del paese queste sono situate rispettivamente 40 chilometri a sud di krabi e 48 chilometri a est di phuket noi ci siamo affidati a anda bare speedboat e alle sue imbarcazioni vedete le coordinate in evidenza prima della partenza lo staff ci rende partecipi di un briefing dove espongono le norme di comportamento e di sicurezza ad ogni equipaggio viene dato un braccialetto di riconoscimento allora direzione della barca ludo mostra la tua mascherina rosa che codice hai su ogni maschera è riportato un codice d'identificativo univuco ma di seconda i traghetti in partenza da phuket salpono dal rassada pier in motoscafi dal chen vanik pier posto qualche centinaia di metri più a nord entrambi nella città di phuket nella parte sud orientale dell'isola durante l'escursione di ben 11 ore sono disponibili bevande e cibo all'interno della barca ovviamente è stato in occhio perché si balla e se siete come noi nella parte anteriore della barca tenetevi bene perché fare un tuffo è un attimo è come un massaggio il periodo migliore per visitare l'arcipelago delle ppi island è quello libero dai monsoni che va da novembre ad aprile da phuket i traghetti impiegano un'ora e trenta minuti massimo due ore mentre con un motoscafo il famoso speed boat basteranno 45 minuti o al massimo un'ora di viaggio questo è tutto colpo di leonardo di caprio co ppi le la più piccola delle due isole che compongono le ppi island è un parco marino nazionale tutelato dal governo thailandese dal 2022 l'ingresso è contingentato a 1200 persone al giorno prima si raggiungevano picchi di 5 mila unità di conseguenza il nostro tempo è limitato ad un'ora ppi le ovviamente è diventata molto più famosa grazie al già citato fin the beach con protagonista vietata anche la balneazione per proteggere l'ambiente dagli elementi che sono utilizzati nelle creme solari che è una macchia di crema solare giusto ingegnere? certo, non sarà la nata di me come vedete ormai di selvaggio in questa isola non c'è proprio più nulla sembra quasi di entrare in un vero e proprio parco allora quindi per far per girarla adesso non so se si vede l'ora sono le 11 cioè le 10.58 alle 11.40 dobbiamo tornare perché la barca poi parte Maya Bay lascia senza fiato ma difficile godersela pieno per elevato numero di turisti tra cui il sottoscritto da molti considerata come la spiaggia esteticamente perfetta sicuramente unica nel suo panorama Maya Bay può gareggiare in bellezza solo con Lagoon Bay che tuttavia come suggerisce il termine è un'ora la cura ma è un'ora la cura posto è fighissimo c'è giusto quella poca percentuale di gente ma... cosa ve lo dico a fare? una cosa che mi fa andare in bestia ti ripetono in tutti i modi che non puoi fare il bagno perché appunto le creme solari danneggiano questo e quest'altro e tutti puntualmente ci buttano in acqua quindi ragazzi un po' di educazione allora giudizi ragazze? io, Matti e Matti vogliamo essere da sole con la spiaggetta con lui? guarda che arriva no comunque quella spiaggetta là i 40 minuti sono passati ed è tempo di tornare ovviamente ragazzi fila per arrivare fila per tornare certo e ora proseguiamo il nostro tour di 11 ore con la nostra barchetta in direzione della prossima spiaggia che lì finalmente è possibile fare il bagno perché ho un po' di bisogno Tonino allora piaciuto? bellissimo momento dello snorkeling come si chiama questa isola? dove siamo? questa baia? lagun qualcosa lagun bay è una laguna naturale e non una spiaggia una laguna davvero magica creata dall'erosione delle scogliere calcare che la sovrastano siamo stati sfortunati perché durante l'immersione non abbiamo visto tanti pesci a volte la fortuna è fondamentale non ho capito ecco non ho visto poi tutte le barche dietro lei cosa dice? è rimasta senza voce lo dica senza voce qui il verde smeraldo delle acque marine crea un'atmosfera talmente esotica da sembrare sospesa nel tempo la location è magica purtroppo davvero l'enorme flusso turistico ti ruba il momentum di godersi questa laguna bicon cave non ho capito se sono pipistrelli e uccelli che sono dentro che i cinesi considerano un perfetto prodotto per la pelle e salutiamo le scimmiette copipi è dove si svolge la pausa pranzo e il pisolo del nostro tour un utile momento per ricaricare le batterie per ricaricare le barche per ricaricare le barche per ricaricare le barche per ricaricare le barche benvenute nell'isola dei gatti siete allergica ai gatti? te Ale? io un po' sì però ci gioco lo stesso e finisco per grattarmi e per starmi qui lo fai per avere che vale la pena sì sì ma poi comunque io mi immaginavo un'isola più tranquilla se non rimini a ferragosto sono quattro gatti che porca miseria boh dai cerchiamo un angolino poi torniamo qua per l'ananas che il nostro barchetto è questo top vedi però a te vai con l'ananas vero Ivan? sì bravo gott'ananas always ho l'isola dei gatti però io non ne ho visti come? ma dove? eccolo niente bella però piccolina da ritorno verso cioè da P.P. Island ma cool cocai noca è una piccola isola dove sono stati costruiti alcuni ristoranti per gli avventori che venivano a fare le escursioni nell'area a causa dell'altro numero di topi i ristoratori si sono difesi con i gatti ora andiamo verso la nostra parca e ritorno a casa base The Beach è stato un film generazionale ha spinto molto a intraprendere un'avventura e sulla via di ritorno pensando a quello che sono diventate oggi le P.P. Island mi risuonano nella mente le parole di Leo tu speri tu sogni non pensi mai che ti possa capitare una di quelle cose che capitano nei film e invece quando poi succede vorresti viverla in modo diverso più viscerale e invece Grazie a tutti.